Incandescente è stata la protesta di questa mattina che ha visto lavoratori socialmente utili e disoccupati manifestare contro l'amministrazione provinciale chiedendo la completa attuazione del corso di orientamento per i giovani. Ai nostri microfoni un esponente LSU. Noi abbiamo aperto una pertenza con la provincia di Napoli, uno sul problema degli LSU che oramai da 15 anni marciscono negli uffici della provincia, su delle persone a fianco a me come puoi ben vedere si sono fatti vecchi e due sul bando che si appresta a fare la provincia di Napoli che riguarda l'orientamento per i giovani disoccupati. Noi pensiamo che abbiamo noi creato questa pertenza dell'orientamento e pensiamo che senza di noi, sì questa è una cosa munca, quindi chiediamo alla provincia di Napoli un impegno preciso sui GLSU e sui disoccupati nostri che devono andare a fare l'orientamento. Qual è il vostro appello? Chiediamo che vengono applicate le norme più trasparenti per dare risposta a tutte quelle persone che fisicamente esprimono un bisogno reale. Grazie